E' accusato di essersi impossessato del trolley di una studentessa durante il traghettamento notturno di un treno Intercity proveniente dalla Sicilia e diretto al nord. Un cittadino spagnolo accusato di furto è stato denunciato in stato di libertà dagli agenti della sezione di polizia ferroviaria di Reggio Calabria. Il fatto è accaduto nella notte a bordo di un convoglio che si trovava su un traghetto proveniente da Messina. L'intervento degli agenti della polizia di Stato ha permesso di recuperare la valigia della ragazza che ha proseguito dopo la restituzione il proprio viaggio senza ulteriori inconvenienti.